Alla luce dei dati Istat che hanno fatto registrare a maggio aumenti medi dei biglietti aerei del 40% su base annua, il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, ha chiesto alle principali compagnie aeree spiegazioni precise sulle dinamiche dei prezzi e in particolare su determinate tratte che hanno visto una variazione anomala che dovranno essere fornite entro dieci giorni. La commissione per il monitoraggio dei prezzi si terrà giovedì 20 luglio e servirà a confrontare i dati forniti dalle imprese con quelli già disponibili, si legge in una nota, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al centro delle verifiche c'è l'andamento dei prezzi dei biglietti di alcune tratte che collegano le città di Roma e Milano con Venezia, Palermo, Catania e Cagliari. Su indicazione del ministro Adolfo Urso, il garante per la sorveglianza dei prezzi si è confrontato con le principali compagnie aeree per analizzare le dinamiche dei prezzi medi dei biglietti aerei negli ultimi mesi sulle tratte nazionali, si legge nella nota.